Bene, passiamo all'ultimo punto che è quello della pubblicazione dell'esempio di questa maggioranza che vi dico, qui vi segno, Vice Sindaco Marino Malasco Con deleghe, attuazione del programma, personale, trasporti di abilità e c'è vero Gli assessori Rocco Assange di Mugin Bilancio, Tributi e Discussione, Protezione Civile, Porto e De Mani Giovanni Marino Quattini di Confine, Cappella, Piscotto, Regalda e Popperi e Luminazioni Gli assessori Elania Scotto Daniello Formazione, con delegata formazione, ricordo urbano, servizio integrato, marketing territoriale Tullio Russo Con deleghe allo sport, all'associazionismo, turismo, montesi del mondo e commercio Voi abbiamo i consiglieri comunali con funzioni politiche Daniele Scotto di Carlo Politiche Sociali e Centri Sociali Giuseppina di Urrano Bianco Pubblica amministrazione, pubblica istruzione ed avvocatura Di Benedetto Pio Massa Provedere al ambiente, informalizzazione e innovazione tecnologica I mententi, Ia Pettangelo, Pari Opportunità, Simone Esposito, Ia Pettangelo, Pari Opportunità, Simone Esposito, Ia Pettangelo, Pari Opportunità, Simone Esposito, mi chiamo così tradurre quello che è l'aspettativa dei cittadini di Ponte di Profica. noi tutti come maggioranza ma con l'appoggio e con i buoni propositi della minoranza e con l'arrivo di tutti possiamo dare le risposte ai cittadini addentro. Grazie. Grazie.